Lupo, tigre, mentre dietro la maschera di coniglio c'è Giordana Ravelli. E poi ci sono gli altri guai. Maiale, scimmia, l'informatico della banda. Un pavone. È così che mi vedi. È così che mi vedi. È così che mi vedi. Se siamo andati così, è uno sciocco. I carabinieri non ci prenderanno mai. Sapete perché? Perché siamo più intelligenti, più furbi, più rapidi di loro. La banda del lupo sparirà per sempre. Vogliamo scrivere una meravigliosa pagina di storia italiana? Grazie. Grazie. Grazie.